La gente vede i cavalieri come dei nobili Robin Hood. Ma io credo che il loro primo atto sia stato solo il preludio a un trucco ancora più grande. È bello essere tornati! Sono contento di rivederti. Se credete di aver visto tutto, date un'occhiata. Francesco! È un piacere lavorare con voi. Ta-da! È un piacere lavorare!